Ed è sulle note di John Legend, All of Me, che noi vi diamo il benvenuti a Radio 5.9 e per questa prima puntata del 2016 di Imprendiamo XL, la puntata che andrà in onda poi lunedì 1 febbraio ma che trattiamo oggi qui assieme a due ormai voci note della nostra radio che sono gli amici di OSM 1816, Antonella Fossati e Gianni Vacca, benvenuti! Ciao a tutti! Come avete passato l'ultimo giorno del 2015, visto che noi ci siamo visti che era ancora un altro anno? Perché fai queste domande indiscrete? Io scusa, rubo la parola Antonella perché in realtà non si può dire quello che ha fatto Antonella perché siamo in fascia protetta, vedi? No, non è quel senso! Io non intendevo esilarante, in realtà io l'ho passato alla caccia di due paggetti che sono ancora dispersi dall'anno scorso e quindi il mio 31 dicembre non li ha trovati comunque non ho potuto festeggiare con loro però ho messo le loro foto sul mio profilo di Facebook quindi speriamo che arrivi Tutti i profili di Facebook di Gianni Vacca Esatto, per cercare i tuoi paggetti Quindi riapriamo polemiche che erano chiuse nello scorso anno Speravo fossero state stoffite, invece niente da fare Allora, come è iniziato per voi professionisti del settore marketing, questo settore a cui abbiamo iniziato i nostri ascoltatori con lo scorso anno e che continuerà ad accompagnare gli argomenti della nostra radio nel 2016? Come è iniziato il mondo del marketing questo 2016 verso quali orizzonti guarda? Una domanda È iniziato bene, dai non possiamo assolutamente lamentarci anzi Nuove clienti, nuove sfide, diversi anche settori Sì, si è aperto con decisamente parecchie attività Devo dire che in Italia, che adesso vogliamo dare un colpo di ottimismo a questa cosa Ci sono parecchie aziende che in realtà stanno guardando a nuovi mercati Stanno facendo nuovi clienti Questo effettivamente noi lo vediamo di riflesso Perché iniziano nuovi progetti, quindi questo possiamo testimoniarlo Nuovi progetti vuol dire che gli imprenditori stanno guardando avanti Non solo guardando indietro a dire come si stava bene quando negli anni 80 Ecco, o prima del 2008 Quindi nuovi progetti e nuovi orizzonti Perché voi, ma non anticipiamo niente, guardate anche all'Oriente con le vostre attività Ma qui ci fermiamo e ve ne parleremo Ecco, nella puntata di oggi noi parleremo di persone e di budget Perché è importante programmarli Però, ecco, persone e budget Le persone come abbiamo visto sono sempre al centro delle nostre trasmissioni Perché sono poi il motore trainante di un'azienda E delle aziende che seguite E sono al centro chiaramente di ogni impresa E il budget perché sappiamo che insomma Avere il budget è anche importante per far funzionare l'impresa E per giustamente premiare e valorizzare quelle persone che ne sono il motore Quindi di questo parleremo Noi intanto andiamo a sentirci una canzone Vi ricordo che potete scriverci al 340 088 93 13 Oppure sulla pagina Facebook web Radio 5.9 Sul sito www.radio5.9.it Parliamo di imprese e quindi ascoltiamo una canzone che invece parla di sogni Perché dietro ogni impresa c'è un sogno Quindi ascoltiamo Sono sempre i sogni a dare forma al mondo di Luciano Ligabue Radio 5.9 Eccoci qua ad Imprendiamo XL L'appuntamento che riparte nel 2016 Oggi con questa prima puntata Assieme a due amici di Radio 5.9 Sono Antonella Fossati e Gianni Vacca di OSM 1816 Play Marketing Allora persone budget Questo è l'argomento di oggi Le persone tante volte sono tornate nei nostri argomenti chiaramente Perché sono coloro che realizzano i prodotti Vendono i prodotti e comunque tengono in piedi un'impresa Assieme agli imprenditori ogni giorno Perché avete scelto questo tema oggi come prima puntata? Ma c'era, prima di tutto aveva un titolo che erano i due essenziali di marketing Che eravamo noi, no? Esatto Quindi va bene La persona del budget Cioè se non è, in realtà i due essenziali sono appunto quelli che hai citato Quindi le persone e il budget Perché spesso ci viene chiesto anche e soprattutto attività Perché sai ci sono, quando si parla di marketing O ci sono le attività gigantesche Tipo la Coca Cola Uno dice vabbè allora questi hanno strutture Con centinaia di persone che si occupano di marketing Oppure dall'altro lato ci sono quelli che Il marketing magari non hanno mai fatto O pensano di farlo E non sanno come potrebbe essergli utile O insomma hanno parecchi dubbi su una cosa Chi lo fa? O che cos'è? Quindi di conseguenza E quindi abbiamo voluto dire Va bene Giusto per far capire E fare, diciamo diventa una domanda Qualsiasi imprenditore all'ascolto Può chiedersi subito e darsi una risposta Quindi oltre a farsi la domanda La marzulliana memoria Quindi si fa una domanda Si dà una risposta Di dire sto facendo marketing oppure no Ecco le prime due Quelle due che hai citato tu Sono i due elementi per capire Se sta facendo marketing oppure no Cioè se ha una persona che se ne occupa Dedicata Oppure E oltre a questa anche un budget Quindi se ha questi due elementi Uno può chiedersi Se ce li hai o non ce li hai E quindi sta facendo marketing Sì o no? E a voi la domanda State facendo marketing Sì o no? No, più che altro nelle nostre aziende Nel senso che molto spesso O ci rispondono direttamente No, non è nessuno che se ne occupa O magari altre volte Sì, hanno una persona che se ne occupa Però nei ritagli di tempo Quindi part time Mentre fa la centralinista La segretaria, l'assistente Quindi diciamo che non è focalizzata Il parente a volte Il parente, bravissimo Quindi non è focalizzata Sì, le risposte sono tra le più varie No, quel caso del nipote Che segue Facebook All'industria del papà Tipo che è chiaramente problematico Oltre a una serie di questioni legali Che vorremmo sottolineare Ecco non vanno esattamente bene Poi a volte come avevamo già anticipato in passato E già detto in passato Si potrebbe avere la percezione Che non si dia la giusta importanza Al marketing che invece ne dovrebbe avere Sì, anche perché poi Legato al marketing Come hai detto altre volte C'è il concetto di clienti Quindi il marketing è quello che porta clienti Ecco non è un dettaglio così trascurabile Nel senso averli o no i clienti Insomma quindi Potrebbe essere importante Potrebbe essere importante Dall'inizio capire Perché ti assicuro che molte volte Nelle aziende Quando chiediamo Beh chi se ne occupa del marketing Perché spesso si parte Vorrei farlo Non sono soddisfatto di quello che ho Non ho abbastanza clienti Vorrei aumentare i fatturati Alla domanda Di chi se ne occupa Si comincia con una generica risposta A volte come dicevamo prima Nessuno E allora vabbè Se nessuno se ne occupa È strano Che non Comunque non è la peggior risposta Che possa capitare Perché a volte è meglio Nessuno che quello sbagliato Anche quello è vero Decisamente Però diciamo che Se un imprenditore È già nell'ottica Di destinare Una risorsa Una persona A questa funzione È già un gran passo avanti Molte volte Ci sono imprenditori Che appunto Come diceva Gianni Si aspettano dei risultati Si chiedono anche Perché non arrivano Però non destinano Nessuna persona A questa funzione Di marketing La domanda Che però io vi faccio Visto che di persone E di marketing Stiamo parlando È Quali sono le persone giuste Per fare marketing Perché magari Non tutte le persone Sono adatte Potremmo andare per esclusione Diciamo che ci sono anche Diciamo dei tratti caratteriali Se possiamo così dire Più 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 consoni Più vicini No? A una professione di marketing Sì Io Vi sto parlando di imprenditori Li escluderei Prima di tutto Ovviamente poi le persone Hanno delle skill particolari Però Giusto per ripetere O per ribadire Deve essere persone Che abbiano voglia di farlo Cioè almeno Perché spesso invece Vengono prese È un'attività così importante Quella di clienti Che viene delegata A Come dicevamo prima Non so a chi farlo fare Quindi lo faccio io Nei ritagli di tempi Io imprenditore Senza così E poi questo si traduca solo nel Chiamo il grafico Gli dico di fare la brochure Quello dovrebbe essere marketing Oppure Prendo la mia segretaria Che gli avanza un sacco di tempo Che sa fare il suo lavoro come segretaria Quindi è una professione E nei ritagli di tempo Gli faccio fare questa attività Quindi Nel senso Quindi non Probabilmente non è il suo mestiere Ma non Perché non è capace Magari perché non è la sua Come dire La sua aspirazione Questo l'abbiamo visto in parecchie attività piccole Ecco ma Se dovessimo riassumere Tre caratteristiche Che voi Cercate ad esempio In un eventuale candidato Che si presenta a voi Dici Io Ho visto il vostro sito Perché bisogna avere un sito Lo ricordiamo Tutti anche A chi dice che non è utile Invece bisogna averlo Ecco Ho visto il vostro sito Vorrei lavorare con voi Tre caratteristiche Che questa Ipotetica figura Dovrebbe avere Deve piacere ad Antonella Se no io sono bloccato L'assunzione Assolutamente no No Possiamo prenderla anche Che non ti piaccia Vabbè non si Niente Dopo la domanda sul 31 Che non possiamo rilevare Cosa Rivelare cosa ha fatto Adesso anche Anche questa No quindi Allora escludiamo Questa caratteristica Quindi Cosa diciamo Nicola Tre Dai Beh Sicuramente Appunto Aver le idee molto chiare Quindi una determinazione alta Avere gli obiettivi Avere Avere uno scopo Ben fissato No Beh Volerlo fare Quindi Sarebbe Sarebbe già una cosa Perché spesso si presentano persone Che hanno fatto magari Carriere completamente diverse Carriere intanto dire Esperienze lavorative Completamente diverse E lo vedono come un ripiego Tanto cosa ci vuole Quindi Ho provato a vendere Ho provato a fare questo Ho provato a fare questo Bello Mi è capitato in mezzo Sul marketing Tanto è solo scegliere due colori E quattro foto Quindi ce la posso fare Due hashtag Due hashtag E via Quindi Forse la prima caratteristica È volerlo fare Ecco Se mi chiede la persona adatta Sicuramente una è questa Magari un po' espansivo Esatto Espansività Comunque avere La capacità di relazionarsi Con le persone Di avere voglia Di relazionarsi con le persone Di Essere anche entusiasti Insomma Di quello che si fa Quindi di trasmettere Di essere coinvolgenti Di trasmettere Anche questa positività Sì Perché poi dovrei Prendere i tuoi prodotti E farli diventare Attraenti Anche per altri E in generale Se posso aggiungere Anche visto che così Abbiamo il terzo Elemento Un po' di curiosità Un po' Tanta curiosità Perché Tutto quello che nasce All'interno di un'azienda Rischia di essere limitato La funzione marketing Limitata Nel senso che Si ricade nelle abitudini Il settore è quello Si fa quello Invece Essere curioso Vuol dire portare Magari esperienze Da fuori di quel settore Un po' creativi Sì Ho sempre fatto mobile In questa azienda Arrivo io da fuori Posso prendere Un'attività Che è stata fatta Nel settore delle auto Anziché Nel ortofrutta E portarla Nel settore dei mobili Se sono curioso Vado a vedere Cose che succedono Al di là Della mia azienda Cosa che magari Chi vende Chi produce Sarebbe quasi Controproducente Ecco E questi sono Tre aspetti Intangibili Chiaramente Molto importanti Intangibili Vi chiedo anche però Quali possono essere Tre aspetti invece Pratici da valutare Quali competenze Pratiche Grafiche Di tipo Di tipo Finanziario Di tipo Cioè Quello che viene in mente Invece dal punto di vista Oltre che intangibile Pratico Per una persona Che voglia Attivarsi A fare Questa professione All'interno di un'azienda Non che le abbia Da subito Ma che comunque Debba Debba Strutturarle E curarle A livello Di competenze personali Anche qui Beh l'inglese Io direi Perché ormai È un settore So che sembra Non vorrei che sembrasse Troppo alto Però Tutto il settore marketing Lavora con No ve lo dico Anche l'esperienza Non è scontato Però effettivamente Almeno la seconda Lingua inglese Quello Non vorrei che sembrasse Una roba Troppo alta In realtà Quello che posso dare La nostra esperienza Ormai Non so Quanti progetti Abbiamo Che Non viene neanche Quasi più chiesto Ve lo dico Da esperienza Proprio da professionisti La nostra Cioè non ci viene Neanche più chiesto Ma Tra l'altro Ho un mercato estero Quindi mi serve qualcuno Che sappia l'inglese Viene dato per scontato Cioè o ce l'hai O Cioè Non c'è neanche il dubbio Sai l'inglese O non lo sai Tutte le aziende Che seguiamo Hanno sbocchi all'estero Sì Ma secondo me Tutte le aziende Che vanno bene Sono Hanno capacità Di relazionarsi Con l'estero In più Ti dico Per la formazione personale Vi assicuro Che dal mercato anglosassone Escono molti più aggiornamenti E quindi rischio Che Né senza saper l'inglese Io La curiosità Di cui prima Rischia di arrivare Dopo che Sai Prima che traducano Un testo Se qualcuno Ha fatto qualche ricerca In Inghilterra In America Molto probabilmente Questa esce Viene pubblicata Magari su un blog Magari su libri Quando arriva in Italia Tradotta in italiano Vuol dire che Di tutte quelle che sono uscite Qualcuno L'ha già letta Reputato importante L'ha tradotta Tempo che passa questo Rischia di essere vecchia Quindi Non vorrei essere troppo cattivo Però l'inglese Quindi Prima cosa l'inglese Altre due caratteristiche Puramente tecniche Che Sono Quanto meno Consigliabili Ecco Non essere dal tonico Beh sicuramente Skill informatiche Quindi a meno I programmi base Adesso Da web PowerPoint Excel Piuttosto che Comunque anche il web Insomma Saper 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 sfruttare Anche tutte le Le ricerche In chiave web È fondamentale Sì Quindi tutto quello Che riguarda Programmi legati A social network Sapersi muovere Non tanto per giocare Ma proprio a livello Di business Sai che c'è Tutta una parte Di Di gestione Che va A livello business Che non è Mettere il posto E condividere la foto Del cagnolino Fatto di frutta No Fatto di insalata Quello Che piace tanto I vegani Sì questa è Una foto Pubblicata Su Radio 5.9 Ormai Tanti mesi fa Che ha scatenato Qualche Qualche dibattito Legittimo dibattito Tra gli ascoltatori Non è solo quello Ma è gestire Capire Di statistiche Quindi diciamo Un po' di Effettivamente Un po' di informatica Bisogna saperla Masticare Ecco Poi Come ultima ciliegina Cosa diamo I nostri ascoltatori Cioè io Ad esempio Vi chiedo Io Magari avere studiato Adesso Una domanda buona Qualcosa Sembra scontato dirlo Ma la cultura generale È qualcosa che Che viene richiesto Ancora Non è tanto tecnica Ma credo che La voglia di continuare A comunque A studiare A informarsi A essere sempre aggiornati Quella sia Una caratteristica saliente Fondamentale Per Una persona Che è un po' di marketing Esatto Anche aver studiato In generale Sono d'accordo Perché se no Si pensa sempre Che sia Sai Lo studio Viene visto come È una roba Che tanto Tanto me la posso Cavare anche senza E quindi molti Pensano che Cioè è vero Che il titolo Conta fino a un certo punto Però è quello Che c'è dietro Quel titolo Che conta Quindi Rischia di essere Una professione Come dicevamo prima Che io prendo uno Con tutto il rispetto Cioè che non ha Affrontato studi E gli insegno Due o tre cose Legge due libri E va bene È pronto Per affrontare il mercato E fare questo mestiere Ma nel senso Dipende Dipende dal risultato Che si vuole ottenere Dipende dalla sfida Che questa professionista Di marketing Ha davanti Anche perché ricordiamo Che c'è marketing Vuol dire tantissime cose Andiamo davvero Dalla promozione Del prodotto All'immagine Di un'azienda A un evento A proprio Le pubbliche relazioni È un termine Un po' abusato È un termine Molto ampio Diciamo che È un Un ombrello Con sotto Diverse competenze Quindi Avere comunque Gli studi Ti permettono Di avere comunque Una visione globale Di tutto Poi ciascuno Sicuramente Si può specializzare Più in analisi Di mercato Piuttosto che In piero Stampa Però L'immagine globale È quella che poi Ti dà Il valore aggiunto Davanti a un cliente Perché hai una visione Completa Delle potenzialità Di un prodotto Di un'azienda Ecco Allora noi Prima di andarci A sentire i club Dogo Ricordiamo Agli ascoltatori Quindi tre caratteristiche Che deve avere Un responsabile Qualcuno comunque Che si occupi di marketing Intangibili Determinazione Espansività E curiosità Insomma Caratteristiche Che vi rendono Quanto meno Permeabili A questa attività Che può essere Chiaramente Che richiede anche Appunto Delle caratteristiche Di tipo Intangibile Ma comunque Molto importanti E poi pratica Cioè Parlare bene L'inglese Avere Delle competenze Informatiche E comunque Aggiornarsi Costantemente Su quella che è Poi L'attività Il settore Magari In cui si va a operare Perché Questo può essere Chiaramente Molto utile Non solo il settore Anche altri Perché poi Bisogna essere Un pochino Olistici Si può dire Insomma Su tutto Che è Il settore Noi adesso Ci andiamo a sentire Club Dogo Poi dopo Torniamo in diretta Con Antonella Fossati Gianni Vacca Se nel frattempo Avete qualche domanda Pagina Facebook Radio 5.9 Oppure 340 088 93 13 A tra poco A dopo Eccoci qua Dopo Weekend E Club Dogo Anche se siamo A lunedì Per cui La canzone Weekend È effettivamente Un po' cattivella Da far ascoltare Però arriverà presto Il weekend E passerà Altrettanto presto Almeno ve lo auguriamo Perché vuol dire Che lo passerete Divertendovi Però siamo qui Ad Impregniamo XL Assieme a Gianni Vacca E ad Antonella Fossati Play Marketing OSM 1816 Con loro Come sapete Abbiamo intrapreso Questo percorso Dedicato al marketing Alle aziende Alle imprese All'interno del contesto Di Impregniamo Che ogni mese Intervisterà appunto Degli imprenditori Del nostro territorio E non solo E con loro Oggi stiamo parlando Un pochino Del primo tema Di quest'anno Le persone E il budget Quindi Questo tema Che è stato scelto Domanda però Che vi farei subito Anzi Prima di farvela Io ricordo una cosa Siccome con La pagina Facebook Della radio Stiamo quasi Raggiungendo Gli 87.000 like Mancano 13 Nuovi Fans Un numerino da poco Ecco Mettete Sì Un numerino da poco Tra l'altro Certificato da Facebook Quindi abbiamo anche Questo profilo VIP Che un pochino Insomma Anche giustamente Ce la tiriamo Ma Mettete mi piace Mettete mi piace Seguite le nostre attività Commentateci in diretta Sulla pagina Facebook Oppure Se volete Anche al 340 088 93 13 E commentate Quindi insomma Seguiteci Tutti gli aggiornamenti E quant'altro Invece Con Tornando a parlare Di marketing Ecco Vi chiedo Che cosa Perché ogni tanto Noi siamo abituati A vedere Nelle aziende Che il direttore vendite E anche il direttore marketing Quindi io vi chiedo Ecco Ho già fatto Una brutta domanda No In realtà È una È una È una cosa che capita 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 Molto spesso Anche perché Premesso Premette una cosa In realtà Che piuttosto che niente Meglio piuttosto Quindi però Questo vale A questo punto per tutto Se dobbiamo pensare A qualcosa di Per aziende strutturate Che hanno un direttore vendite Il fatto che si occupi di marketing È un po' Un Un assurdo In realtà Nel senso Sì Diciamo che dovrebbero essere Due figure Disgiunte Perché hanno due obiettivi Due finalità differenti Esatto O è una grande persona bipolare Bipolare nel senso giusto Nel senso che Quando poi gli capita una Dipende da che lato Vive la sua giornata Perché sostanzialmente Il punto di vista è diverso Le vendite devono Raccogliere Quindi devono ottimizzare il tempo E avere un risultato Nell'immediato Nell'immediato Vuol dire costruire vendite Quindi avere firme su contratti O in generale Non lo so Possiamo parlare anche di piccole attività Perché facciamo sempre l'esempio Della nostra gelateria Qui sotto La gelateria è la persona Magari che sta al banco Il direttore vendite Quello che vende il gelato proprio Però perché Nelle grandi aziende O nelle aziende strutturate C'è il sales marketing manager Che fa anche figo Come termine inglese Un po' Per considerare i ruoli Perché la professionalità di prima Spesso non è riconosciuta L'altra cosa è che Mentre dicevamo Le vendite hanno un risultato immediato Il marketing ha un risultato A lunga scadenza Mentre uno si concentra su pochi Il marketing si concentra su molti Uno guarda numeri E risultati più Diretti Immediati L'altro li guarda Magari nel giro di sei mesi Un anno Ecco Avere una persona Che ha sia la capacità Di guardare nell'immediato E tenere i numeri Sull'immediato E sia la capacità Di guardare nel futuro E tenere i numeri nel futuro Insomma Non Diciamo che non ne ho viste tante Così non siamo Siamo politically correct E non offendiamo nessuno Ecco Un po' Se vogliamo fare un paragone Il Diciamo che Il marketing è quello che semina Quindi Si occupa di questa attività Le vendite sono quelli che raccolgono Quando fai semina Hai dei modi Delle prospettive Un punto di vista Che è diverso Dalla Invece la prospettiva Di chi va a raccogliere Ecco Quindi Spero di aver spiegato Perché in realtà Non è propriamente corretto Radunare in un unico ruolo Questa funzione Ecco Quindi ecco Bene Quindi ecco bene Tenere separati i settori Perché questo può portare Poi a un efficientamento Di tutta quella che è L'offerta aziendale Poi in sostanza Si E' un po' come se Tu avessi Magari lo continuiamo Devi costruire La tua gabbietta di polli E devi avere L'ingegnere Che fa anche il muratore O viceversa O viceversa O insomma Senza fare differenza Di classe Tra ruoli Però sono compiti diversi Aziendalmente Il marketing e le vendite Hanno compiti Decisamente diversi In un'azienda Se li state accorpando Probabilmente Uno dei due Non sta venendo Non è curato Al meglio Ecco Ecco Tra l'altro Possiamo dire anche Agli imprenditori Che ci ascoltano Che magari Se avete Questo settore Dell'azienda Quindi avete un manager Che si occupa di vendite E allo stesso tempo Di marketing E questo manager In questo momento Non sta rendendo Come dovrebbe Forse non sta rendendo Come dovrebbe Perché concentrarsi Su due campi Così diversi Lo porta a non concentrarsi Nella maniera giusta Su quello che dovrebbe essere O le vendite O il marketing Appunto Quello sicuramente Però teniamo ben presente Anche che Le due funzioni Devono essere assolutamente Sinergiche Cioè devono comunque Interfacciarsi Devono comunque Proprio perché unite Promozione Eseguita dalla vendita E poi i ritorni Ritornano ancora Al marketing Devono essere Un ciclo unico Un ciclo comunque continuo Quindi sono due funzioni Sì con obiettivi Differenziati E due figure Che dovrebbero essere Comunque distinte Ma comunque In stretta correlazione Nel senso che devono Confrontarsi E il lavoro di uno Deve essere sinergico Al lavoro dell'altro Quindi Sì questo sì Essendo parte Della stessa azienda Devono riuscire a parlarsi Radunarli In una stessa persona Magari uno si guarda Allo specchio E si parla da solo Potrebbe essere complicato Forse è complicato Anche poi per il cliente Che comunque magari A entrambe le figure Si interfaccia Poi per esigenze diverse Quando la figura È la stessa A volte forse Il rischio di sovrapposizioni Può essere chiaramente Presente Io ho di preferenza Dell'uno Di un'azione Rispetto ad un'altra Mettiamo caso Che devo programmare Una campagna Per i prossimi sei mesi Che mi porterà Risultati tra un anno Allo stesso tempo Ho un contratto Importantissimo Da 400 mila euro Che devo andare a chiudere Cosa sceglierò Da direttore marketing E rendita Il contratto Da 400 mila O la campagna Oggi L'uovo oggi O la gallina domani Ecco O la gallina domani L'uovo oggi Non lo so Insomma Metti la stessa persona Con un doppio ruolo In alcuni momenti In difficoltà decisionale A meno che Ecco Andrea da Mirando L'è arrivato un messaggio Ci chiede Ci chiede Allora Andrea da Mirando Intanto ci saluta Complimenti per la trasmissione Quanto dovrebbe destinare Un'azienda Al marketing Allora passiamo al budget Quindi Andrea ci fai passare Dobbiamo dare una risposta Alla domanda Abbiamo detto Gli essenziali del marketing Sono due Abbiamo detto Quindi uno È la persona che se ne occupa Due effettivamente Cosa risponiamo Andrea È il budget Stavamo parlando Di una gabbietta di polli Prima Se io non ho chi se ne occupa E non ho un budget Per comprare i chiodi Le assi Così probabilmente La gabbietta di polli Non viene fuori Non è questione di marketing Qualsiasi cosa E i polli fuggono E i polli fuggono Quindi la cosa che posso Che posso dire ad Andrea È questa Che il budget È assolutamente essenziale Avere una persona Senza un budget È assolutamente inutile Non avrà la benzina Per muovere La macchina Ecco però Andrea Ci chiedeva più o meno Quanto un'azienda Dovrebbe destinare Da quello che ho capito Da manuale Da manuale di marketing Se vogliamo metterla così Si stima una percentuale Di fatturato Che per un'azienda Già avviata Va dal 3 all'8% Se parliamo di una start up Si arriva anche fino al 30 Vabbè molti saranno già svenuti Davanti questi nomi Prendete il vostro fatturato Fate dal 3 all'8% E vedete quanto Quindi Andrea È sostenibile Poi logicamente Uno può spendere anche di più Però affinché sia sostenibile E soprattutto Non vada a minare Ciò che c'è già In un'azienda già avviata È consigliabile Di rimanere in questa forbice Quindi ecco Andrea Se hai un'impresa 3-8% del tuo fatturato Se hai una start up 30% Ci dispiace dirtelo così Ma insomma Adesso Ci andiamo ad ascoltare Un'altra canzone Per cui digerite un attimo Questi numeri che avevamo dato Poi torniamo qui Ad Impregniamo XL Con un altro Gratitissimo ospite Che però vi presentiamo Abbiamo ottenuto una sorpresa Abbiamo ottenuto una sorpresa Che però Vi diremo subito dopo La canzone A dopo A dopo Antonella Fossati Gianni Vacca Di Play Marketing VSM 1816 Siamo qui per parlare Appunto Di marketing Primo argomento del 2016 Budget e persone Persone e budget Quello che tiene in piedi Un'impresa Vi avevamo detto Che avremmo avuto Un ospite Un ospite Che è già stato In nostra compagnia Ed è il sociologo Lorenzo Notari Di Notari Ricerche Benvenuto Ciao a tutti Ciao Allora Lorenzo Tu innanzitutto Buon 2016 Perché noi ci siamo visti Grazie altrettanto Ormai è Pasqua Ma ok Esatto Che era un anno Ma fino a gennaio Abbiamo detto Che lo possiamo Possiamo fargli auguri Per questo Hai visto per caso Due paggetti Dalle parti di Bologna No No Perché non l'hai visto Lorenzo non ascoltarono Rispondi Ecco la prossima Siccome avremo anche Un appuntamento legale A Radio 5.9 Si chiamerà L'ora legale Faremo una consulenza Gratuita ad Antonella Per stalking Nei confronti di Gianni Vacca Su questa cosa Di paggi Perché Perché così sappiamo Che ecco Ci potrà essere Un'azione legale No stiamo scherzando Ovviamente Argomento serio Per cui Se lo spiegherete Dopo Esatto Però 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 Lorenzo Tu sei qua oggi Non tanto in veste Nella veste In cui sei venuto Nella scorsa puntata In cui abbiamo parlato Di statistiche Di 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 Sì assolutamente Di tante Di tante Argomenti legati appunto Ai numeri Ai sondaggi E quant'altro Ma oggi sei venuto qui A presentare Una giornata nazionale La prima giornata nazionale Degli internet Dipendenti anonimi italiani Che si terrà Il 26 di marzo A Casalecchio di Reno Bologna Siamo un po' preoccupati Di che cosa si tratta Intanto io Speravo ci fosse Una canzoncina epica Per annunciare questo evento Perché è un evento Attesissimo prima nazionale A parte gli scherzi Allora Nella mia attività di sociologo Ci sono le cose serie Quindi le consulenze Che si fanno per le aziende Le ricerche di mercato E ci sono anche Spazi per esperimenti sociali Questo non è il primo Ma è forse il più interessante Di quelli Che ho lanciato Negli ultimi anni Si tratta di vedere Se riusciamo a raccogliere In una giornata Da tutta Italia Gli internet dipendenti Giocando sul fatto Che appunto ci sono gruppi Per altri tipi di dipendenza Più seri Che raccolgono appunto Dipendenti anonimi Di una certa sostanza O abitudine Ecco nel nostro caso Cerchiamo di giocare Sull'ironia del fatto Di essere anonimi Per trovarci un giorno E diciamo così Analizzare il fenomeno Non tanto Della internet dipendenza Patologica Quella seria Diciamo così Ma anche semplicemente Gli aspetti Che legano tutti noi In maniera forse In certi casi Troppo 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 continuativa Al mondo del web Sto parlando di social network Sto parlando di servizi Di messaggistica istantanea Sto parlando Della fruizione di internet Una fruizione Che a volte Sembra diventare quasi compulsiva Del gioco online E eccetera Ecco in questa giornata Ci troveremo Faremo questo esperimento sociale Sui partecipanti Nel senso che Ciascuno dei partecipanti In forma anonima Può parlare Del suo rapporto Con il web Quindi noi cercheremo Di trarre Da queste dichiarazioni Elementi interessanti Elementi di prima mano Sul fenomeno Della internet dipendenza E cercheremo di fare Anche un altro esperimento sociale Dentro l'esperimento sociale Che è già questa giornata Che è un tentativo Di focus group Allargato A tutti i partecipanti Quindi ci aspettiamo Qualche decina di partecipanti Cercheremo di fare Un focus group Che solitamente viene fatto Su meno unità Su una decina di unità Cercheremo di farlo Tra tutti i partecipanti Il focus group serve Anche in questo caso Tirare fuori Il non detto Dell'esperienza Che ciascuno di noi Ha con il web E la sua frizione Quindi Insomma Ci saranno tante cose Da raccontare Dopo questa giornata Per adesso La annunciamo Ecco Gente che si parlerà Tra me la sua tastiera Mentre è tipo A 5 Centimetri dall'altro Infatti Pensiamo che Molte delle conversazioni Passeranno in parallelo Rispetto al faccia a faccia Sui canali di messaggistica No Proprio per questo Questo discorso Per mettere Diciamo così Anche un po' di ironia In questo evento Forniremo a ciascuno Dei partecipanti Una mascherina Nera Di quelle Tipo Fotoromanzo Anni 70 E in alternativa Anche un sacchettino Un sacchettino Di quelli Tipo No no Un sacchettino Di quelli Tipo Vignette di Linux Di Linux Sono sacchettine Con lo spazio per gli occhi Insomma Per mantenere l'anonimato Chi lo vorrà Insomma Ecco Ci stiamo muovendo Su argeni pericolosi Per cui si fermo Anche perché ha detto Solo mascherina Non ha citato Esatto Solo mascherina Ma a volte sappiamo Che basta Come abbigliamento Per cui Però ecco Lorenzo Nota che Antonella Stai distolto da questo Anche tu sei iscritto Stai guardando la pagina Facebook Stai giustamente guardando La pagina Facebook Dell'evento Che vi invito a guardare Se voi cercate Nel motore di ricerca di Facebook Internet Dipendenti Anonimi Italiani La trovate C'è un personaggio di Star Trek Con Che saluta Saluta Quelli che saranno i partecipanti E E poi c'è Diciamo Il riferimento ufficiale Che è il sito internet Del servizio Che è dietro a questa giornata Che poi vi spiegherò Un po' più seriamente Se volete Che è www.internetquantobasta.it Io non sapevo che Questa trasmissione Oggi andasse in diretta Quindi il sito oggi È giù per manutenzione C'è solo una home page Però se guardate Qualcosa c'è Meglio di niente Quindi www.internetquantobasta.it E poi c'è la pagina Facebook Dell'evento Internet Dipendenti Anonimi Italiani Lorenzo Domanda Domanda d'obbligo Però Quando è che uno Si accorge Di avere un problema Di dipendenza da internet Però Quante sono le ore Passate sul computer Che possono indicare Almeno Dare un pochino Un segnale d'allarme Ecco così Allora È soggettivo Ci sono tanti test Ci sono tante ricerche Che danno dei parametri Se alla mattina Ti svegli Come primo pensiero È quello di aggiornare Il tuo status Allora sei dipendente Eccetera Diciamo Io penso che Il buonsenso prevalga Diciamo così Quando qualcuno Si accorge Che ha Una vita sociale Sempre più Fragile Una vita sentimentale Che ne risente Di questa presenza Compulsiva Sui social Quando si accorge Che anziché produrre Come dovrebbe Produce molto meno E qua Mi aggancio anche Alla materia trattata Da Gianni Vacca Cioè il discorso Dei manager E dei libri professionisti Che avendo La possibilità Di gestire Il proprio tempo E molto di questo tempo Lo utilizzano anche In maniera improduttiva Sui social network Quindi Se ne parlava Giusto A tavola Ecco Per cui Prima di venire qua Abbiamo accenato Ora non approfondiamo Ma insomma Se ne parlavate Via messaggio Esatto Sì Possiamo annoverare Tra le problematiche Quanto meno patologiche Quelli che pubblicano Tutto quello che mangiano Su Facebook Perché è una battaglia Mia personale Questo assolutamente Io addirittura Ho assistito Voglio condividere con voi Con gli ascoltatori Radio 5.9 Ero a cena Per Natale Con i parenti Tutti eravamo In un ristorante E c'è stato Questo ragazzo qua Con una tavolata di parenti Che ha praticamente Fatto una capriola Per farsi un selfie Che prendesse tutto il tavolo Ha bloccato il cameriere Che stava passando Cioè è stato lì Un quarto d'ora Ed è stata una scena Veramente che diceva Come se qualcuno Importasse qualcosa Di quello che stai mangiando No ma poi Tendenzialmente Tra l'altro adesso Sono iniziato a girare Anche sui social Queste foto Che fanno vedere Le differenze Tra le foto fatte Dai ragazzi Tipo nel 1900 E quelle dei ragazzi Di oggi Il problema è che Nel 1900 Le foto ne facevano una Ogni vent'anni Per cui quella lì La facevano bene Oggi che te ne fai una Al minuto Qualche problema C'è il discorso del cibo Ma voglio dire Voi pensate Qualsiasi evento Noi andiamo Vediamo gente Che non guarda l'evento Ma guarda lo schermo Del cellulare Con cui sta filmando L'evento Ero poco tempo fa A vedere dei fuochi D'artificio in Rivera Beh si vedevano Centinaia di persone Tutte a filmare Questi fuochi Ma mi chiedo io Se non li guardi A prezzi in quel momento In cui sei in una location Anche abbastanza particolare Sulla spiaggia A mezzanotte eccetera Ma quando mai ti godrai Quell'istante Riguardandoti Gli scoppiettì Dei fuochi Sullo schermo del cellulare E poi se anche Lo condividi ai tuoi amici Ma quanti pensi Che siano interessanti Ecco vedete che Sono una critica Hai fatto benissimo A ricordarlo Perché noi ne parliamo Giusto qualche puntata Dietro Parlando di quelli Che invece fanno La stessa cosa Ad esempio nei musei Quindi vanno a vedere Per dire Non è un museo Ma la Cappella Sistina E la fotografano Per cui dici Ma prenditi una cartolina C'è gente che si perde Gli eventi a cui partecipa Per filmarli E sciupando Qualcosa che è ripetibile Dopo ok Lo puoi rivedere Ma non ti gusterai mai L'atmosfera Certo Sì tremendo Non vogliamo andare fuori tema Ma un parere a tutti e tre Per risolvere questo Questa diciamo Problematica Come potrebbe risolversi Escludendo la violenza Chiaramente Che non si può attuare Visto che c'era questa storia Della festa con le mascherine A cui io sono ancora rimasto È rimasto scioccato È rimasto scioccato Quindi io direi Che è l'unica È rimasto scioccato Esatto Però niente Io direi che l'unico modo Per capirla È venire l'evento Ah senz'altro Con la mascherina O senza? Viene fornita Ma viene fornita Però visto che sta diventando Un po' dispendioso Comperarne decine Ripieghiamo sui sacchettini Con Tra l'altro Solo con quelle Tra l'altro mascherine Che nel contesto In cui volete Voi maliziosamente Metterle Non escludono L'identità della persona Cioè io non l'ho mai capito Se mi mette le mascherine Tu riconosci perfettamente La persona Sì sì Ma va bene Nel nostro caso Assolutamente È veramente inquietante Però vabbè Andiamo oltre a questo tema Perché È come Superman Cioè nel senso Quando lui mette gli occhiali Ovviamente Nessuno Era arrivato un messaggio Da un imprenditore Ci faceva i complimenti Ha scritto Ritiro tutto Scusate Non volevo No scherziamo Ma la stai era collegato A quanto dicevamo prima No per gli imprenditori Ad esempio Adesso Altra parentesi di serietà Oggi è un pomeriggio Così abbastanza Con questo primo sole Che annuncia la primavera Ci sentiamo tutti Abbastanza Abbastanza frizzanti Per gli imprenditori Ad esempio Cosa facciamo Come servizio Beh C'è il problema Sempre più Serio Di dipendenti Che durante Gli orari di lavoro Guardano i cellulari Messaggistica Facebook Ricoprano chiamate Eccetera Allora Su questo Non c'è niente Di male in sé Il problema Può Sovraggiungere Quando queste persone Sono addette a macchinari Che possono essere pericolosi Sono autori Autisti di mezzi Più o meno pesanti Più o meno pubblici Come gli autobus Eccetera Ecco che Allora Questo fenomeno Deve essere in qualche modo gestito Allora Ci sono situazioni In cui semplicemente Arriva una direttiva dall'alto Una direttiva aziendale Che proibisce l'uso dei cellulari Sul luogo di lavoro Come è capitato Alcuni giorni fa Lo ricordiamo Madera di Modena Che dopo tanto tempo Ha dichiarato Che gli autisti Non possono utilizzare Il cellulare Neanche con l'auricolare Però questo Causa Ci siamo accorti Abbiamo fatto diversi studi Su questo aspetto Causa Un deciso peggioramento Del clima aziendale E soprattutto Il rischio Paradossalmente Aumenta Per questa ragione Perché in realtà Il dipendente Cerca ugualmente Di guardare il device mobile Però lo fa di nascosto Facendolo di nascosto Aumentano i rischi Cioè voi pensate Chi lavora attorno A delle macchine Pesanti Presse E affini Se lo fa in chiaro Ok Non deve farlo Si distrae Ma è sempre comunque meglio Rispetto al fatto Che lui lo faccia di nascosto Perché per farlo di nascosto Rischia di esporsi Ancora maggiormente Al pericolo Di un infortunio sul lavoro Ecco che Allora Un esempio Di una nostra consulenza È quella di andare a spiegare Che una buona conciliazione Dei tempi di lavoro E dei tempi di consultazione Dei social network È la ricetta migliore Per mantenere un buon clima E diminuire il pericolo È molto semplice Ad esempio Ogni due ore di lavoro Prevedere cinque minuti Così come ci sono le pause Per andare in bagno La pausa di sigaretta Eccetera Ecco ugualmente Ogni due ore di lavoro Prevedere un cinque minuti Un tre minuti Qualche è Dedicati alla consultazione Da parte del lavoratore Del suo device mobile Così recupera i messaggi Da una controllata I social Se vuole E dopo fa altre due ore Concentrato sul suo lavoro Comunque Questa è una ricettina Semplice semplice Che contribuisce a tenere alto Il clima aziendale Annullare i pericoli Sul lavoro Dovuti a questo tipo Di comportamento Tutti felici Ma non è così facile Ecco ora voi Voi ci insegnate Che grandi imprese americane Che non vanno neanche ricordate Perché tutti ne conosciamo un nome Ma hanno fatto Proprio dell'assenza Poi Neanche tanto tale Però di regole La propria forza Cioè che non vuol dire Che non hanno regole Però che lasciano Una certa libertà All'individuo Che in questo senso Dovrebbe Forte di questa libertà Che viene lasciata Anche risultare Più produttivo In tanti Tante volte Questo meccanismo Ha funzionato Sì Dipende sempre molto Dal contesto Chiaramente Dipende molto Dal tipo di lavoro Che si va a fare Eccetera Ovviamente internet È una fonte di conoscenza È una fonte di socializzazione E questi due elementi insieme Possono diventare anche Un'ottima leva produttiva Per l'azienda Se gestiti bene Se invece appunto Il rischio è quello Di un lavoratore Che si fa male Perché di nascosto Cerca di guardare i messaggi Mentre il cellulare è in tasca E con l'altra mano E attorno alla pressa Questo va assolutamente Governato meglio Il cellulare diventa una sottiletta E la mano E la mano peggio ancora Ecco dal punto di vista legale Visto che stai trattando questo tema Che tu sappia Poi se una persona ad esempio Fa un incidente Mentre utilizza un cellulare Che non potrebbe utilizzare Poi ha anche dei rischi Credo da un punto di vista Poi proprio Assicurativo Sono aspetti che noi non trattiamo Noi arriviamo fino alla consulenza Che serve per ottimizzare Il rapporto tra Lavoratore Device mobile E il lavoro che sta facendo Quindi Questo è un aspetto successivo Però diciamo che ci sono sempre Le implicazioni Per cui comunque Tutte le persone che ci ascoltano Diciamo Pur augurandoci Che ci siano sempre Le strutture volte a Migliorare il clima aziendale Anche attraverso questi studi E questi sistemi Ecco mi raccomando State attenti Perché poi Ci possono essere anche dei rischi Su quello che fate E sui regolamenti Che magari uno infrange Più o meno consapevolmente Senza uscire troppo di tema Però siccome l'abbiamo toccato Sia a Radio 5.9 Che in altri Che sul Mostardino.it Abbiamo intervistato Roberta Bruzzone Che invece ci ha dato Un'altra visione Su quello che è L'utilizzo di internet Da parte degli adolescenti Utilizzo che spesso Troppo spesso Sfocia In cose poco negative Non è il tema della puntata Poco positive Non è il tema della puntata Dicevo Però ecco Diciamolo anche lì Il collegamento comunque c'è In tutto questo Noi stavamo parlando Come gli elementi decisivi Erano le persone Cioè la persona Che si occupa di marketing All'interno dell'azienda Questo in realtà Se vuoi può essere Un'accezione In più Cioè un'estensione In più Dell'evento In quanto spesso Le aziende ritengono Proprio perché i social Siano Questione di Passatemi il tema Di cazzeggio Dove può farlo chiunque In quest'essi momento Addirittura appunto Mentre è sul lavoro Bene Proprio per quello Allora lo do a chiunque Quindi vale anche Il nipotino di 13 anni E mi collega Quello che dicevi tu Che segue la pagina Facebook Per quanto l'azienda Vale Qualsiasi persona in realtà Sappia farlo Può andarci Invece L'uso professionale Dello strumento È una cosa diversa Dall'uso invece Quotidiano Sono due cose diverse Non è che perché uno Sa fare uno Ecco la cosa La cosa principale Che vorremmo passasse In ogni caso È che Si tratti di svago Personale Si tratti di lavoro I social network E intero in generale È un mezzo serio È un mezzo che può avere Tante implicazioni Per cui è un mezzo Da non prendere sotto gamma Che siate genitori Che siate professionisti O che siate imprenditori Sappiate che A chi mettete in mano La gestione Di queste attività Nella rete Gli mettete in mano Uno strumento Che può avere Tante ripercussioni Negative E positive Per cui fatelo sempre Con la giusta attenzione La giusta coscienza La giusta intelligenza E che è giusto lavoro Sui Le persone minori Credo Non si commenta da sola Il nome stesso Che abbiamo scelto Per questo servizio Internet quanto basta Sta a significare Che internet È uno strumento Non solo insostitutibile Insostituibile Ma meraviglioso Pieno di tante ricchezze Però Quanto basta Diciamo così Insomma L'eccesso Come in tutte le cose Il troppo stroppia Ovunque Quindi Un minimo di attenzione È bene farla Come sempre Se siete d'accordo Noi ci andiamo a sentire Max Gazzè La vita con me Mi è venuta detta così Portate pazienza E poi torniamo in diretta Qui su Radio 5.9 Se nel frattempo Avete qualche domanda A rivolgere ad Antonella Fossati A Gianni Vacca O a Lorenzo Notari Appunto Sull'iniziativa Che si terrà a Bologna Sugli internet dipendenti O anche sul suo lavoro Che porta avanti Con le imprese Ecco fatelo Scriveteci 340-088-9313 Oppure la pagina Facebook Web Radio 5.9 Impregniamo XL Radio 5.9 Oggi siamo in compagnia Di Antonella Fossati Gianni Vacca È arrivato poco fa Anche Lorenzo Notari Di Notari Ricerca Sociologo Che lavora con tante imprese E che prima appunto Parlava di Quest'iniziativa Che si terrà a Bologna Il 26 marzo prossimo Sugli internet dipendenti Un'iniziativa molto interessante Che vi consigliamo Poi di andare ad approfondire Quando eravamo fuori onda Prima di andare A sentire la canzone Parlavamo appunto Dell'importanza Del mezzo internet Di quello che insomma Ha anche come implicazioni E mentre eravamo Appunto fuori onda Lorenzo ci portava a conoscenza Anche di un fenomeno recente Che sta dilagando a Modena Eh ma infatti Devo farti una premessa Perché una delle cose Che dicevamo È che il ruolo Di chi gestisce un'azienda Anche se sembrano strumenti Sai parlavamo prima Di competenze Cosa che deve sapere Alla fine spesso Si diceva Beh lui è uno che Appunto È un internet Sopra quanto basta Quindi vuol dire Che è uno che ne sa Allora gli do in mano La gestione Di tutta la mia presenza Online Dell'azienda Non pensando che in realtà Non è proprio un dettaglio Trascurabile Non è che basta Sapere usare I social Anzi dicevi C'era qualcuno Che li sa usare Pure troppo No Questo si collega A quello che dicevamo Appunto fuori onda Del fatto che Non solo a Modena In realtà Ma in tutta Italia C'è un fenomeno Ormai veramente Difusissimo Nonostante chi è vittima Di questo fenomeno Tenda a non parlarne Per ovvie ragioni Ed è quello dei ricatti Sessuali Che vengono fatti Attraverso il web Cioè Diciamo così Persone che navigano In maniera un po' Sproveduta Diciamo così Vengono adescati E sto parlando di adulti Spesso Vengono adescati sul web E invitati a Sbilanciarsi Diciamo così In webcam Grande Dopodiché Dopo questo Questo show Che viene fatto In webcam Gli vengono chiesti dei soldi Altrimenti la minaccia È quella Che quel video Venga poi diffuso A una lista Di persone A lui vicine Diciamo così Quindi Interessante Comunque Vedo che c'è il tema Anche di questo Si parlerà Non so se si parlerà Di questo In realtà Però Questo È collegato Anche al fatto Che dicevate voi In questo momento Al fatto della consapevolezza Dell'utilizzo Degli strumenti informatici Cioè C'è gente che Ha collegato Lo smartphone Con il tablet Con il computer di casa Con quello del lavoro E non ha idea Di quali siano i social Di cui fa parte Di quali siano le cerche Di cui fa parte Di quali siano i permessi Che i suoi profili social Hanno E quindi È un attimo In questo caos Ludico Perché voglio dire Tutti noi Quando compriamo un device nuovo Ci viene chiesto Vuoi partecipare a questa Meravigliosa esperienza Che è questa chat Di tutto E allora tutti noi Sì 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 Poi alla fine ci troviamo In questa Matassa Di connessioni Che non riusciamo Quasi più a controllare Non sappiamo Dentro quali social siamo Con quali persone abbiamo Interazione Quali permessi abbiamo dato In termini di privacy Riferiti al nostro profilo E questo è un altro Degli aspetti Di cui ci occupiamo Come internet Quanto basta Cioè Il verificare La situazione Fare il punto della situazione Della presenza social Che una persona ha Cioè tu su quali social sei Con quali permessi Quali persone hai Ti serve davvero Essere su tutti questi network Ti serve davvero Che il cellulare privato Sia collegato Per una serie di Con una serie di passaggi Al computer di lavoro Pensaci bene Perché insomma Magari la vita privata E l'ambito di lavoro È meglio che stiano Separati Ecco Queste sono Tutte le implicazioni Che in questa Iper socializzazione Web Dentro cui tutti noi siamo E che se gestita bene È fantastica Divertente Piena di Sorprese Per tutti noi Ecco che Attenzione Perché se poi Si governa male Queste sorprese A volte possono anche Essere sorprese Non proprio positive Diciamo così Ecco E comunque Prego Portiamo in ambito aziendale Quindi un amministratore delegato Un dirigente Che comunque Ha un'immagine aziendale Davvero Davvero critica Insomma Certamente Ha questa consapevolezza Rischia di rovinare L'immagine dell'azienda Cioè La propria immagine Se uno ha un ruolo Un certo tipo È l'immagine dell'azienda Se io la rovino Sto rovinando magari Diciamo così Anche Per quanto riguarda L'immagine aziendale In generale Noi sappiamo che Un social media manager Cioè Chi gestisce la pagina Facebook Banalmente Di una grande azienda Che diciamo Prima era segretaria Part time Che prima era segretaria Un nipote o qualcosa Adesso si stanno accorgendo Finalmente le aziende Di quanto importante Sia il suo ruolo Perché basta Un post sbagliato O mal interpretato Dalla audience Che questa pagina Web ha Per demolire In un attimo L'immagine aziendale Oddio C'è da dire anche Che su Facebook Sui social in generale Dico sempre Facebook Ma intendo i social in generale C'è questo fenomeno Che sono le fiammate Cioè Un giorno siamo tutti Estremamente Rivoluzionari Contro una certa causa Che la mattina Del giorno successivo Abbiamo già dimenticato Quindi Perché è un po' Una trasposizione Dalle piazze Classiche Comunque Sui social è ancora peggio Più esaltata È tutto fatto di Legami Messaggi Sensazioni A quanto Un eventuale coinvolgimento Di un top manager O di un Vertice aziendale Una personalità di spicco Che rappresenta l'azienda Se questa persona Viene coinvolta In qualche tipo di Tranello Del web Voi pensate A quante ripercussioni Oltre che personali Possano essersi Anche sulla sua azienda Ecco E' vero che magari Si Ha questa vendata Che il giorno dopo Ce lo dimentichiamo Però su internet Rimane anche tutto Tracciabile negli anni Sì È un po' Controproducente È verissimo Però c'è anche Io adesso porto sempre La controdifesa All'accusa C'è anche da dire Che su internet Si accumula tanto Di quel materiale Che c'è una sorta Di stratificazione Delle cose Quindi Botte risposta Un giorno Tutti infiammati Contro una cosa E il giorno dopo Dimenticati Però si dice Sì però rimane sul web Sì però il giorno dopo Siamo già tutti infiammati Su un'altra cosa E quindi ci siamo già Dimenticati la fiamma Del giorno prima E quindi se anche è presente Per rinforzare Quello diceva Antonella In effetti Dipende Se c'è quella persona Di responsabilità Che dicevo prima Se ho un buon Social media manager Interviene sulla fiammata Mettendo altre cose Se io ho lasciato Invece l'immagine mia aziendale Al primo che capita Cioè Ipotino di 13 anni Segretare che partà In poveretta Gli viene dato anche Sto compito Nel suo Cade la fiammata Poi non succede niente No a volte rischia Addirittura di Di rinfocolarla Dopodiché Su internet Come diceva Antonella Rimane Ma se io non ci ho messo Altro sopra La stratificazione Non avviene Quindi quando io digiterò Quel nome di quell'azienda L'ultima cosa che rimane È il casino Che si è creato Perché nessuno Ne ha preso il controllo Nessuno di responsabilità Diciamo prima Che skill Che abilità Ci vogliono Ecco Ecco tra l'altro Internet ha fatto quasi cadere Il problema Poi non è anche da analizzare Questo però Ha fatto quasi cadere Il problema censura Per andare ad un C'è un problema Io immetto nel web Tante notizie diverse Da quel problema Che viene trattato Sperando che Vada in secondo piano Quindi a volte Capita anche questo Poi però Ecco ricordiamo una cosa Per quanto riguarda Il tema iniziale Cioè quello dei ricatti E di cose del genere La cosa da fare È sempre quella Di avvertire la polizia postale Assolutamente O comunque le autorità competenti Qualora fosse vite Angi un ricatto Ecco mi raccomando Perché Non Non cascateci prima Esatto Beh ecco L'invito chiaramente È quello di non cadere nel tranello Se c'è qualcuno Che vi invita A spogliarvi via webcam Beh declinate Declinate con gentilezza L'invito E non fatelo Questo è il primo consiglio Se proprio Se proprio Lo avete già fatto Senz'altro Rivolgersi alle forze dell'ordine È necessario Ecco Anche per ricevere Quanto meno i loro consigli Una cosa anche Una cosa anche pratica Non fatelo neanche Con persone di cui vi fidate Perché sappiamo E voi ci insegnate Che ci sono dei mezzi Per registrare Quello che accade Anche per conto terzi Per cui Questo viene molto spesso Tra le persone di più giovane età Cioè il fatto che Tra di loro Finché sono in relazione Si scambiano video Anche di un certo tipo Quando la relazione finisce C'è il ricatto Da parte di quello dei due Che è più Scottato Da questa Da questa separazione E Del mettere in rete Questi Questi video Ecco E questo era proprio Il tema che si toccava Con la criminola Roberta Bruzzone Che è intervenuta Anche a Radio 5.9 E Però è un reato Ecco Quindi ricordiamo Che poi lì si va In risvolti penali Ed è molto molto Spiacevole Perché anche Si tratta di ragazzi Che magari non hanno Neanche 15 anni 16 17 Comunque di minore età Si va veramente In risvolti penali Tra l'altro Che a qualcuno Ha dato in mano Lo smartphone Qui apriremo un tema Ma che Serve consapevolezza Da parte dei genitori Che debbano educare Il ragazzino A cui Io ieri Ero in un centro città E vedevo Una mamma Che minacciava il bambino Che faceva i capricci Ma un bambino Che era avuto due anni Sapeva sino a camminare E minacciava Se continua a fare il cattivo Ah hai fatto il cattivo Ti tolgo un altro gioco Dallo smartphone A un bambino di due anni Ecco noi ricordiamo Come minaccia Del peggiore delle cose Che poteva fare Però Ricordiamo che in Italia Un minore non può intestarsi Una rete Una linea dati Per cui già questo Dovrebbe bastare Per cui ecco Servirebbe Formazione per i genitori In primis Come in tutte le cose Non è un diritto Di un minore avere internet E qui la possiamo Anche far decadere In questo senso Non è un diritto Di un minore Ed è un dovere Del genitore Controllare E controllare L'utilizzo che se ne fa Non si può Un minore Non può invocare Rispetto al proprio genitore Un diritto alla privacy Di dove naviga E come naviga Quindi questo Il genitore Ha la patria potestà Di quello che succede Ed è responsabile Anche in sede civile Non penale Ma in sede civile È responsabile Di quello che fa Il figlio su internet Quindi ricordiamolo E se possiamo aggiungere In te una puntata Non nominatelo Social media manager Della vostra Non nominatelo Social media manager Esatto 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 Avevamo ricordato A Radio 5.9 Alcuni Una delle ultime puntate Che abbiamo fatto Nel 2015 Di un noto caso Con Salvatore Aranzulla Che aveva criticato Questa nota Di tricondizionatori Per una risposta Che gli era stata data Proprio su Facebook E la ditta è stata bombardata In quei giorni Da centinaia Per non dire migliaia Di commenti negativi Richieste di Di tutto Per cui ecco Vabbè Insomma Secondo me abbiamo terrorizzato Abbastanza Chi ci sta ascoltando Sai cosa sarebbe interessante fare Sarebbe interessante Prendere i dati di vendita Di Barilla Dopo Prima e dopo Quella grande fiammata Sui social Che c'è stata Circa due anni fa In cui Venivano Minacciati I boicottaggi Eccetera Per alcune affermazioni Che erano state fatte Che il risultato E stare a mettere Antonio Banderas Con un pollo Poi che non so se Insomma Cioè Questa è stata Una delle conseguenze Però io In realtà Non credo Adesso Ripeto Andrebbero guardati i dati Non credo Che sia stato Tutto questo Gran scossone Nelle vendite A causa di questa Fiammata sui social Che però Quando c'è stata In quei giorni Sembrava veramente L'apocalisse Per questa ditta E quindi Voglio dire Questo Vantaggio del fatto Che sì Ci siano queste fiammate Tutti esagitati Per qualcosa Un giorno Ma tutti A pensare ad altro Il giorno successivo Adesso giusto Per collegarlo di nuovo Tenete presente Che comunque La Barilla Da 5 persone assunte Solo per gestire La parte social Solo tra virgolette Quindi giustamente Hanno qualcuno Che gestisce Spesso le piccole delle imprese Appunto Avendo il social media manager Che è l'ipotino Di 12 anni O la ragazza part time O ragazzo part time Fa piacere Che almeno La Barilla Abbia assunto qualcuno In questo senso Ma sarà un canale Non è un ufficio marketing No Non è un ufficio marketing Ecco E poi E poi Adesso Noi dobbiamo andare Con un altro stacco musicale Per poi tornare qui Con l'ultima parte La puntata Però Promesso Faremo una puntata Su tutte le cose Che poi derivano Dai fenomeni del web Quasi satiriche Adesso noi abbiamo visto La regione Lombardia Che ha fatto questo pirellone Con Family Day Che è stato ritrattato È stato modificato Con Photoshop Butta la pasta Piuttosto che tante altre cose Esatto Ha un solo umore Quindi anche Dello spoiler Di un certo tipo Però ecco Perché noi sappiamo Che anche quello Che soprattutto Grandi aziende Mettono sul web Magari in maniera seria Se si presta Diciamo così Delle prese in giro Rischia poi Di alimentare A sua volta Altri fenomeni Ed è molto divertente Ma lo andremo a vedere In un'altra puntata Di Imprendiamo XL Su Radio 5.9 Adesso andiamo a sentire Una canzone Poi torniamo in diretta Con Gianni Vacca Antonella Fossati E Lorenzo Notari Di Notari Ricerche A dopo Eccoci qua Di Imprendiamo XL Su Radio 5.9 In compagnia di Antonella Fossati Gianni Vacca OSM 1816 E Play Marketing È stato con noi Poco fa Anche Lorenzo Notari Che ringraziamo Che ci ha presentato Un'iniziativa Di cui comunque Vi ricorderemo Che è la prima giornata Nazionale Dei internet Dipendenti Anonimi Italiani Il 26 marzo A Casalecchio di Reno Poi vi daremo Anche più notizie Su questa iniziativa Lorenzo Notari È un sociologo Se volete qualche Informazione in più Poi sulle sue attività Con le imprese Le aziende Visto che ne fa diverse Potete visitare il sito Notari-Ricerche.it Notari-Ricerche.it Questa delle feste Con le mascherine Comunque a me sembra Quella più interessante Che Ma torniamo al tema Del giorno Perché il tema del giorno Chiaramente era Parlando di marketing Persone E budget Ci avete dato Alcune indicazioni Cioè La persona che Un'azienda deve scegliere Deve avere determinate caratteristiche La determinazione L'espansività La curiosità Per quanto riguarda Le caratteristiche intangibili E poi deve avere Delle competenze Quali comunque La conoscenza La lingua inglese L'abilità Dell'utilizzo Dei mezzi informatici E comunque Dei costanti aggiornamenti Su quello che è Il mercato Che andrà a trattare Quindi ci deve essere questo Avete poi spiegato Parlando di budget Che era appunto L'ultimo tema Di questa prima puntata Che un'azienda Dovrebbe investire Dal 3 all'8% Del proprio fatturato Qualora non si trattasse Di start-up Perché in quel caso Anche un investimento Del 25-30% Le start-up Lo devono mettere a budget Del loro fatturato Per poter lanciare La propria impresa Ecco Ripartiamo da qui Parlando di budget Cosa altro Un'azienda deve tenere In considerazione Legando il budget Al marketing Ma quello Io vorrei fare Se vuoi Su questo Perché per molti Sembrano cifre Spaventose No Quindi praticamente Io cosa faccio Devorei prendere Il fatturato Così giusto Per ribadirlo E farne il 3% Almeno Questo percentuale Vi assicuro Che l'esperienza È In Italia Pochissime aziende Lo fanno Alcune lo fanno Nel senso Facciamo Alcuni esempi Qui della zona Dovrebbero essere Tutte le case di moda A volte vogliono aprire E vogliono sfondare Con un brand di moda Senza investire Sul marketing Molte O senza investire Queste cifre È chiaro Che Che questo è Assolutamente È un po' come dire Ripeto L'esempio che facciamo prima Se io non ho Un Destinato di soldi Una parte Come li spenderò Senza alcuna Programmazione Quindi senza Risultati sicuramente Misurabili Un caso Su tutti Era quello di Moncler Che avendo triplicato E parliamo di milioni di euro Il budget di marketing È riuscito a rilanciare Un brand Cioè un brand Il marchio Moncler Che era decisamente Affossato Non ha parlato di altro Se non di quello Chiaramente questo budget Deve includere anche Discosti prima Anche una persona Cioè al suo interno Deve esserci In quel 3-8% Deve esserci anche il costo Della persona Che si occuperà Di gestire tutti i soldi E chiaramente Inutile dirlo Scusa Antonella Poi chiaramente ti lascio Però anche il prodotto Cioè il prodotto qui In questo momento Lo stiamo dando per scontato Cioè il prodotto deve essere buono Ma questo sarà L'argomento di un altro No Quello assolutamente È la base Diciamo che In questa percentuale Noi consideriamo Sia appunto i costi Delle persone Deputate a fare Il lavoro Sia anche tutti i costi vivi Dalla brochure La stampa della brochure E quant'altro No Volevo sottolineare Anche Ci sono tante aziende Che pensano Di non destinare Invece nulla Al marketing Quando invece In realtà Scopriamo Ma proprio Parlandoci insieme No Non abbiamo mai stanziato Un budget Però l'anno scorso Abbiamo Siamo andati in fiera Abbiamo stampato una brochure Abbiamo fatto le locandine Quali sono tutti i costi In realtà di marketing Poi diciamo che il marketing Comunque ne potrebbe fare a meno Chi magari ha un monopolio Allora lì forse sì Ma in tutti gli altri casi Che sono ovviamente La maggioranza Se torniamo sempre All'esempio classico Di Coca-Cola Sappiamo benissimo E vediamo tutti quanto Tutti i giorni Continuano comunque A fare marketing Nonostante sia un brand consolidato Con vendite alte Non dico di monopolio Ma comunque decisamente Posizionato bene Però ecco Manca proprio la consapevolezza Di quanto Dedichiamo al marketing Di quanto noi Già Comunque Sì è una lista della spesa Che consiglia anche Chi è l'ascolto Di farsi Perché spesso Cioè è vero Spesso uno pensa No vabbè ma ho speso poco In realtà poi Sommando tutte le spese impreviste Accapitate Ah c'è un quarto di pagina Che mi avanza Sul giornale locale Mi li dai 300 euro Metti da parte Anzi molte volte Gli imprenditori Si rendono conto Di quanto Tutte le spese Messe insieme Siano Diciamo così Una massa Anche molto più Di quello che Pensavano di aver Accantonato E in realtà Facendo una Un piano marketing Ben dettagliato E strutturato Vadano quasi A ottimizzare Se non A economizzare Invece su quello Che è stato fatto Finora Proprio perché Ha Un certo budget All'interno di un piano Coordinato Strutturato Su tutti i canali È sicuramente Meglio Sia come effetti finali Che come Come risultato Ecco tante volte Capita in ambito locale Magari di vedere Delle pubblicità Sui giornali Che magari Ecco anche lì Diciamolo Cose a cui Prestare attenzione Che magari Non riportano i contatti O che Non invitano Chi legge Comunque A fare un'azione Questa è la conseguenza È la conseguenza Che lo dici prima Una persona Senza Cioè O una non persona Perché poi Se io lo faccio A tempo Parziale Se già faccio Il direttore vendite In più Faccio anche Il direttore marketing Lasciamo stare Il caso Del nipotino Di 13 anni Che ovviamente Si commenta da solo Ecco Non mi stupisco Poi Se le cose Vengono fatte Come qualsiasi cosa E non è perché Il marketing Qualsiasi cosa L'azienda affronta Se non ha una persona Dedicata Che ne sa Vabbè Che risultato potrebbe esserci Quindi si Mancano contatti Manca riscontro Sono stati spesi soldi Come È sbagliato il marketing O è sbagliato il modo di farlo Ecco E un investimento Da parte di un'azienda Ora magari Non si potrà dare Una cifra precisa Però Investire quel 3-8% In marketing Quanto può portare Poi in termini di Maggiorazione del fatturato Faccio una domanda Un po' specifica Però Sì no È giusto È giusto Qual è il risultato Che poi Perché giustamente Chi ci ascolta Dice ok Io investo Però qual è il risultato Che devo aspettarmi Da questo investimento Fermo restando Che deve essere fatto Nel modo giusto E con le persone giuste Certo Diciamo che almeno Si dovrebbe ripagare Almeno Per farti un esempio La Moncler Visto che parlavamo prima Per rilanciare il marchio Nel 2011 Aveva investito 21 L'intero Scusa L'intero 2011 21 milioni di euro In marketing Quindi parliamo di cifre Importanti Per rilanciarsi Nei primi 9 mesi Del 2013 Ne ha investiti 29 Certo I fatturati Sono arrivati a 238 milioni Ha riaperto negozi Adesso Quindi alla fine So che sembra E' uno dei motivi Per cui l'attività di marketing Non è esclusivamente creativa Sono ragionamenti economici Che l'imprenditore può fare Prima di partire Cioè quello che dicevi tu Cosa mi aspetto Perché quel 3-8% Non deve essere dato a fondo perduto Se no è troppo facile Il nostro lavoro sarebbe facile Chiediamo soldi Poi qualche colore bello Lo azzecchiamo assieme Ti portiamo a qualche festa Possibilmente con le mascherine E basta Cioè questo è il marketing No in realtà Quel 3-8% Deve Prima di investirlo Bisogna avere bene in testa Dove si vuole arrivare Sarà la persona Che si occupa di marketing A dire Quello che mi hai dato Quel 3-8% Sarà sufficiente Per raggiungere Quel fatturato Che l'azienda Si auspica Quindi è un mero Conto economico Da fare prima di partire Però spesso viene fatto A fine dell'anno Quando ormai I soldi di marketing Sono stati spesi I risultati Aziendali Forse calcolati Col commercialista E quindi Ecco quindi Noi vi invitiamo Un solo un altro A fare questo calcolo Così potete avere Magari Più chiara Quella che è La situazione Che vi potreste Trovare ad affrontare Una volta fatto il calcolo Poi dopo Farete le dovute Valutazioni Bravi Nel senso Bravi se lo fate Auguro veramente Tutti gli imprenditori Di farlo Perché Questo è un modo Un modo migliore Per far fruttare I propri soldi Ecco Ogni euro speso Dovrebbe valere qualcosa E quindi è giusto Anche per il marketing Considerarlo Non è un'attività Tanto per Ecco Ecco quindi Questo è molto 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 Importante Ribadirlo Noi Ecco poi Vi ricordiamo Siamo più o meno Nella fase conclusiva Della puntata Però ecco Vi ricordiamo Se voleste qualche Informazione in più Poi potete anche Scriverci a Info Chioccio Radio 5.9 Punto it Sia per magari Avere i contatti Di Gianni Vaca Antonella Fossati Piuttosto che di Lorenzo Notari Notare ricerche Se voleste magari Approfondire le loro Professioni Il loro lavoro Quindi scriveteci Occhi di delle foto Ecco Non mie Ma insomma Per gli altri Però ecco Tolto questo Tolto questo Chiaramente Quello che arriviamo A capire Oggi È che il marketing È fondamentale Poi io vedo Che in radio Si sta allestendo Un piccolo set Fotografico Per cui Adesso c'è un momento Di distrazione Gli speaker Non sono più con noi Eccoli tornati Eccoci qua Quindi No Ecco mi raccomando Però Investite su questo Noi abbiamo sempre Dato qualche consiglio Dov'è che Oltre che magari Sui rispettivi siti Però dov'è che Magari un imprenditore Un'azienda Può Trare qualche spunto Per quanto riguarda Il marketing O avere delle idee nuove Idee nuove Beh Un spunto Sicuramente Leggere online Leggere online Perché Si parlava di internet Come potenzialità Transitano molte idee nuove Alcune Perché quelle più affermate La fine probabilmente Andranno sui libri O si pensa che andranno sui libri Adesso più o meno digitali O stampati che siano Mentre Ci sono parecchi blog Forum Dove ci sono Il mio consiglio Ci sono parecchi spunti Su cui farsi contaminare Come dicevamo prima Non necessariamente Il proprio settore Anzi Il consiglio è Andate anche Andate anche fuori Dal vostro settore Quindi Se state facendo L'alberghiero Non guardate solo Gente E non leggete Solo di gente Che parla di marketing Alberghiero Ok Quindi allora In questa puntata qua Comunque vi abbiamo dato Delle indicazioni Ve le ripetiamo un attimino Prima di concludere Perché così che si fosse collegato Solo ora Comunque può avere Un flash finale E chiaramente Le approfondiremo poi Di volta in volta Persone Per fare marketing Innanzitutto Persone dedicate E con un ruolo Che curino appunto Il marketing E quel settore All'interno dell'azienda Con determinazione Espansività e curiosità Per quanto riguarda Le intangibili Per le tangibili La capacità E la conoscenza Dell'inglese Delle capacità E delle conoscenze Per quanto riguarda Gli aspetti informatici E una propensione Chiaramente All'aggiornamento Costante Su quello O più settori Un investimento Dal 3 all'8% Sul proprio fatturato Per le aziende Già avviate Per le aziende In fase di start up Valutare anche Un 25-30% Sul fatturato Di investimento Naturalmente Anche in questo senso Vi ricordiamo Di conti alla mano Valutare proprio Quello che può essere Necessario Nell'immediato A breve Lungo termine E questo Insomma Già potrebbe essere Utile Per la vostra attività Se volete Dire qualcosa Siamo proprio Agli ultimi secondi Di puntata Per cui Intanto Ricordiamo magari Ecco i vostri siti Sì Osm1816.it E anche .com Che è un nuovo Sito online Perché ormai abbiamo Come dicevi all'inizio Abbiamo tre sedi Quindi Livigno, Milano E Shanghai Quindi questo Sarà oggetto Del prossimo E puntate E ovviamente Playmarketing.it Dove all'interno Trovate invece Notizie specifiche Proprio Sul marketing Quindi Ed è un blog GianniVacca.it È collegato Quindi Ecco poi Se voleste qualche Altra informazione Sull'area business Di Radio 5.9 Potete scrivere Info Chiocciola Radio 5.9 Punto it Noi ci vediamo Esattamente Il mese prossimo Parleremo Di altri temi Che di cui Vi aggiorneremo Poi durante Queste settimane Per quanto riguarda Dal marketing Vi lasciamo Alla programmazione Di Radio 5.9 E con voi Appunto Ci vediamo Tra un mese Grazie per averci seguito Grazie a voi Ciao Ciao